Il ghiacciaio del Carderone, Gran Sasso d'Italia, il ghiacciaio più meridionale d'Europa, deglassato a glacio nevaio dalla comunità scientifica in quanto non svolge più la sua situazione di modellamento del territorio. Visti i trend climatici sicuramente è destinato a scomparire, si passa da centinaia di ettari a piccole aree ancora ricoperte di ghiaccio. Entro la fine del secolo più di un terzo dei ghiacciai, così come li conosciamo, spariranno. L'acqua che scorre oggi dal calderone è come una clessidra che è inesorabile e ci ricorda che non abbiamo più tempo. Dobbiamo agire adesso, collettivamente, per fermare la piaga dei cambiamenti climatici. Il messaggio della campagna Change Climate Change è molto semplice. Noi abbiamo causato i cambiamenti climatici, noi possiamo fermarli. È anche lo stesso messaggio che Greta Thunberg e migliaia di studenti in tutto il mondo stanno lanciando in questi giorni con i Climate Strike, i scioperi per il clima. E noi saremo al loro fianco.